Comunicare con i cittadini vuol dire andare dove i cittadini sono, non aspettare che i cittadini vengono da noi. I cittadini sono su Facebook, i cittadini sono sui social, i cittadini sono su Twitter ed è lì che la pubblica amministrazione deve andarli a trovare con la sua comunicazione. Noi come FPA e tutta la catena di Forum PA abbiamo sviluppato una serie di collane di comunicazione su Twitter e su Facebook che hanno dimostrato come c'è un grandissimo interesse per l'innovazione e questo interesse cresce quando anche gli strumenti sono innovativi.